Caso opera maestra il voto del consiglio comunale boccia la commissione d'inchiesta Pesaro avrà un nuovo asilo alla torraccia due proposte per edificare anche una chiesa nel quartiere amianto pericoloso a muraglia ancora ritardi sulla bonifica attesa da dieci anni Afano Ocheana tre cigni uccisi nel canale Albani indagini sull'atto predatorio Plauso della città agli atleti pesaresi di Pentadron che hanno conquistato medaglie agli europei Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 31 luglio e in questa edizione andiamo a parlare del caso politico delle ultime settimane quello di quasi mezzo milione di euro di affidamenti del comune alle associazioni opera maestra e stella polare il voto del consiglio comunale perché è avvenuto appunto ieri ha bocciato l'istituzione di una commissione d'inchiesta vediamo come è andata in questo nostro primo servizio il primo consiglio comunale pesarese del nuovo governo a firma andrea biancani è subito un consiglio infuocato causa principale dell'incendio e la questione accesa e dibattuta degli affidamenti alle associazioni opera maestra e stella polare che supera il mezzo milione di euro in poco più di due anni da un lato c'è la richiesta dell'opposizione bocciata dalla maggioranza che chiedeva una commissione d'inchiesta sulla questione dall'altro la maggioranza che replica di come possa bastare la permanente commissione di controllo già in essere e l'indagine della procura devo dire che di questo problema legato alle spese che sembra che non siano state debitamente documentate facevo sicuramente a meno nel senso che è un problema che stiamo cercando di affrontare però fin da subito ho dato la massima disponibilità dell'amministrazione comunale per mettere a disposizione tutti gli atti che sono necessari tutti i documenti necessari questo viene fatto sia nei confronti dei consiglieri sia nei confronti della stampa rispetto all'atto che dovevamo votare oggi c'è quello di aprire una co di istituire una commissione d'inchiesta sono voluto intervenire dicendo che secondo me questa richiesta è superata perché in questi giorni abbiamo saputo ufficialmente che la magistratura ha aperto un'inchiesta e quindi mi sembra come dire quanto meno superfluo aprire fare una commissione d'inchiesta comunale che tutti sappiamo ha poteri molto limitati esiste già una commissione che prevede il controllo degli atti che può essere attivata e che fino ad oggi purtroppo dalla stella dell'opposizione non è stata attivata ma non è sicuramente questo il momento di fare polemica voglio solo dire c'è una commissione c'è una magistratura che è già partita che sta facendo un'inchiesta non vedo perché dovremmo fare una commissione d'inchiesta come consiglio comunale quando il sottoscritto ma penso tutti i cittadini si devono sentire tutelati da quello che è l'azione che la magistratura sta portando avanti per verificare se ci sono stati o non ci sono stati illeciti o se sono stati fatti atti non regolari rispetto a quello che prevede la norma dura la replica dell'opposizione alla decisione presa dalla maggioranza guidata da Biancani che afferma come oltre a mobilitarsi nel convocare immediatamente la commissione di controllo si muoverà anche sulle società partecipate con un occhio che sarà principalmente indirizzato sulla fondazione pescheria e la gestione dei fondi di pesaro capitale italiana della cultura 2024 devo dire è una profonda delusione tutto ci saremmo aspettato fuorché questo atteggiamento davvero negativo e privo di motivazioni che anche il sindaco ha adotto alla richiesta di non procedere con la commissione d'inchiesta addirittura ha mischiato i piani competenze che fossi nel legislatore che ha previsto tre poteri ben chiari quello politico quello legislativo e quello giudiziario mi starei rivoltando nella tomba il sindaco ha messo insieme il potere che ha e che è in capo alla magistratura cioè quello di lavorare soprattutto da un punto di vista penale per accertare eventuali illeciti con quello che invece è una competenza tipica del consiglio comunale che ha il compito di verificare che le risorse pubbliche che sono state spese oltre mezzo milione di euro siano state spese nella garanzia totale dei cittadini ecco questa verifica la si poteva fare soltanto con una commissione ad hoc una commissione d'inchiesta che avrebbe terminato al più presto il suo lavoro e che sarebbe stata mirata ad accertare le eventuali responsabilità da un punto di vista amministrativo ci auguravamo che il sindaco Biancani volesse intraprendere un nuovo cammino un nuovo percorso evidentemente non solo la giunta e fotocopia della precedente ma anche l'atteggiamento omertoso e poco chiaro rispecchia perfettamente il modello Ricci il presidente l'anzi lo ha annunciato verrà convocata la commissione controllo e garanzia che però è una commissione così con un potere sicuramente importante ma un potere che esaurisce se stesso una volta verificati gli atti la controllo sulla conformità degli atti non potrà fare ulteriori indagini dopodiché il ragionamento che stiamo facendo è anche su quello dell'attivazione a questo punto a cascata di una verifica globale su quelli che sono gli atti che attengono agli enti partecipati del comune di Pesaro che sono tanti penso alla fondazione pescheria la quale sta organizzando gestendo tutte le risorse che ad oggi sono in capo l'amministrazione comunale che provengono dalla regione e dal ministero per l'organizzazione della capitale italiana della cultura credo che sia diverso nei confronti dei cittadini garantire chiarezza anche sulle regolazioni agli enti partecipati del comune e quello di ieri è stato anche un consiglio comunale in cui il nuovo sindaco Andrea Biancani ha esternato le linee guida che accompagneranno il suo mandato nel prossimo quinquennio quindi sentiamolo Il nuovo consiglio comunale di Pesaro a guida Andrea Biancani apre il ciclo di proposte di deliberazione consigliare del mandato 2024-2029 con la presentazione di quelle che saranno le linee programmatiche che dovranno fungere da faro guida per l'amministrazione nei confronti della città pesarese Sono sette i punti in cui Biancani suddivide quest'ultime che vanno a rispecchiare temi ed obiettivi già trattati nel suo programma elettorale Oggi sono presentate e presentate le linee programmatiche ho evidenziato quello che avevo già evidenziato durante la campagna elettorale ha sicuramente un'attenzione particolare rispetto a tutte le persone più fragili nella città di Pesaro vorrei che nessuno si sentisse indietro o comunque che con difficoltà che non vengono affrontate dall'altra parte ho ribadito la volontà di proseguire gli investimenti sulle politiche educative ovviamente non riusciremo in un anno a dare risposta alle 140 famiglie che tendono di avere una risposta soprattutto nei niri ma continueremo a investire, non faremo tagli sulle politiche educative l'altro obiettivo è riuscire a chiudere tutti gli investimenti che abbiamo ottenuto di oltre 150 milioni di euro dai fondi PNRR tutti i cantieri stanno partendo l'obiettivo è completare nei tempi previsti c'è il tema di sicuramente trovare più risorse l'abbiamo fatto anche oggi con la protezione di bilancio risorse aumentate per la manutenzione delle scuole per la manutenzione dei giardini per la manutenzione degli impiadi sportivi dall'altra parte ho ribadito la necessità di implementare gli investimenti sulla sicurezza abbiamo già installato delle nuove telecamere abbiamo partecipato a un bando nazionale per poter installare ulteriori telecamere abbiamo detto che tutto quello che si occupa di turismo, di cultura il nostro obiettivo è far sì che Pesaro sia sempre più europea sempre più nazionale e internazionale con l'obiettivo di aprire e lo stiamo facendo tutti quelli che sono i beni culturali che abbiamo in città con l'obiettivo anche di aprire Rocca Costanza sia i turisti che i cittadini pesaresi ho cercato di fare una sintesi ma con l'obiettivo con una parola d'ordine che è quella che vogliamo una città sempre più bella sempre più vivibile una città solidale una città dove i cittadini devono avere il piacere di venire a vivere Ed ora cambiamo argomento il nuovo asilo nido da 90 posti per la cui edificazione il comune di Pesaro ha ottenuto oltre 2 milioni di euro sarà costruito alla torraccia in via degli abeti questa è la scelta del comune motivato a rispondere all'esigenza di servizi educativi di infanzia in un'area della città in cui erano più carenti il prossimo consiglio comunale sarà chiamato a votare il cambio di destinazione d'uso di un'area attualmente destinata al luogo di culto e in cui l'Arcidiocesi aveva proposto di realizzare una chiesa nel quartiere attualmente sprovvisto di una comunità parrocchiale il sindaco Biancani ha fatto sapere oggi di avere prospettato alla Curia due soluzioni per realizzare la chiesa un'area a lungo strada degli Olmi a poche centinaia di metri dalla zona di interesse o in alternativa una parte della stessa area utilizzata per il nuovo asilo e dalla torraccia ci spostiamo al quartiere di Muraglia dove da quasi dieci anni si attende la rimozione bonifica di amianto deteriorato da un sito produttivo presente nel quartiere caso che negli ultimi mesi è stato anche oggetto di tante segnalazioni a Rossini TV e in questo servizio vi diamo nuovi aggiornamenti su come il Comune intende proprio intervenire per risolvere questa situazione vediamo il caso del sito produttivo di Muraglia in via Compagni che fin dal 2014 contiene amianto deteriorato come certificato da appositi controlli è finito sul tavolo del Consiglio Comunale a portarcelo il Consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Malandrino che già in primavera era tornato a sollecitare la rimozione e bonifica di quelle componenti in amianto estremamente dannose per la salute un caso divenuto ancora più clamoroso quando come sottolineato ai nostri microfoni dalla responsabile dell'osservatore amianto Elisabetta Sacchi a inizio giugno si diede il via ai lavori di bonifica attesi da dieci anni e poi subito interrotti dopo appena cinque giorni l'assessora all'ambiente Maria Rosa Conti rispondendo all'interrogazione ha ricordato come il Comune si sia trovato di fronte ad un privato che non solo è inadempiente della bonifica in questione ma lo è dolosamente e come il Comune si stia tenendo ai provvedimenti giudiziari di conseguenza C'è il verbale di contrastazione della polizia locale perché successivamente alla emissione dell'ordinata che a seguito del trattore del Stifone è fatta la verifica sull'addicimento o meno da parte del privato che viene messa l'ultimo a fila del 2021 viene fatta d'ordenenza l'attività di viziaria c'è un procedimento penale perché la cosa passa alla tortura della Repubblica La società privata deve dunque rispondere di un reato e la polizia locale ha provveduto a denunciare il legale responsabile alla procura della Repubblica A seguito del processo il Tribunale ha condannato il privato alle pene pecuniare previste dalla normativa vigente La consapevolezza del Comune sulla questione e l'attenersi all'intergiudiziario non ha però soddisfatto il consigliere Daniele Malandrino autore dell'interrogazione Dal 2014 al 2024 non è stato fatto niente 10 sono residenti operai e ci sono centinaia di ragazzi che giocano nel campo da caso compresi nei figli vicino a del materiale molto pericoloso l'ASUR ha sentenziato nel 2014 l'immediata rimozione sono state fatte due ordinanze comunali è sempre stato disatteso il punto e vi chiedo come mai l'amministrazione del Comune di Pesaro in 10 anni parliamo 2014 2024 non si è sostituita a questo proprietario che era inadegire mattinata di controlli straordinari per polizia carabinieri e unità cinofile in due hotel pesaresi adibiti ad ospitare immigrati extracomunitari nell'ambito dell'operazione sono state controllate 34 persone e sono emerse irregolarità per un tunisino ed un egiziano per i quali si è reso necessario l'accompagnamento in questura per l'emanazione di due ordini di espulsione in una delle due strutture controllate sono anche emerse criticità dal punto di vista igienico-sanitario e pertanto sono scattate le segnalazioni agli uffici competenti ed ora ci spostiamo a Fano sconcerto questa mattina quando nel canale Albani sono state trovate le carcasse di una dozzina di volatili vittime di un atto predatorio si tratta di oche anatre e del cigno ugo animale simbolo del canale dove gli uccelli in questione stazionano stabilmente il sopralluogo del dottor Giuseppe Curina presidente dell'associazione canale Albani progetto Ugo e del veterinario Nicola Ridolfi hanno rilevato che il cigno e 4 oche sono deceduti per predazione diretta mentre altre anatre pur non presentando ferite esterne sarebbero morte per schiacciamento da predazione o per infarto a seguito dell'evento al momento sono stati ritrovati vivi solo tre esemplari che sono stati prelevati e messi al sicuro dai volontari dell'associazione sono ancora in corso gli accertamenti per individuare la specie responsabile della predazione aggiornamenti per quanto riguarda la provincia controordina infatti la provincia non si trasferirà più nell'ex sede della Banca d'Italia in via Rossini come invece veniva ipotizzato da mesi dalla stessa amministrazione ad annunciarlo il presidente della provincia Giuseppe Paolini durante l'ultimo consiglio provinciale in cui si è fatto presente come dopo una serie di sopralluoghi l'operazione risulterebbe ben più onerosa della ristrutturazione dello stabile attuale prende dunque corpo l'ipotesi che la provincia resti nella sua sede storica di via Gramsci dopo che anche l'ordine degli architetti ha inserito l'edificio in un elenco di beni di interesse architettonico europeo e la soprintendenza ha posto il vincolo di conservazione della sala Pierangeli sono ora in corso interlocuzioni con l'Università di Bologna per un progetto che ha prospettato la possibilità di intercettare fondi europei da investire su efficientamento energetico e adeguamento sismico dello stabile dopo l'approvazione in consiglio regionale di ieri il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato questa mattina l'ordinanza è sullo stress termico che consente alle categorie lavorative fortemente esposte al sole e a condizioni di affa opprimente di assenersi dal lavoro dalle 12.30 alle 16 la misura di prevenzione già adottata in diverse regioni del sud Italia riguarderà il settore agricolo floro vivaistico e chi lavora in cantieri edili o stradali l'ordinanza approvata dopo confronto con le sigle sindacali entra in vigore da domani primo agosto e si concluderà il 31 agosto con i suoi 143 anni di esistenza e la ricorrenza pensate più antica della città di Pesaro assieme alla festa del porto parliamo della festa del basilico che domani torna a Santa Veneranda per una quattro giorni di eventi con i suoi 143 anni di storia è una delle feste più antiche della città di Pesaro fra funzione religiosa e funzione aggregativa di intrattenimento anche quest'anno Santa Veneranda si prepara ad accogliere la festa del basilico negli spazi all'aperto della parrocchia per quattro giorni di celebrazioni dal primo al 4 agosto fin da quei tempi la tradizione viene rispettata molto partecipata la chiesa viene parata festa vengono accesi i ceri in tutto l'altare viene illustrata e la gente attende moltissimo questo momento c'è anche un altro un altro grande motivo per cui questa festa è così attesa perché nei tempi chiaramente antichi cosa facevano? questo era l'appuntamento che i giovani davano alle fidanzate e cosa facevano i giovani? preparavano dei mazzettini di basilico che poi appendevano al loro giubbottino alle loro maglie e poi nel pomeriggio durante la festa le donne spezzavano una foglia di basilico e lo appoggiavano nel loro corsetto questo significava che accettavano la loro proposta oggi chiaramente i tempi sono cambiati la festa si attende per altri motivi perché comunque c'è tanto spettacolo c'è la musica per grandi piccini ci sono i truccabimbi ci sarà musica la discoteca ci sarà ci saranno ci sarà liscio quest'anno siamo andati alla ricerca anche del basilico artico che sarà una novità purtroppo abbiamo preso poche piantine perché non è che ce ne sono tante però tutto sommato sta venendo una buona e bella festa abbiamo cambiato molto perché non abbiamo più solamente la ristorazione che c'era l'anno scorso abbiamo il street food il venerdì c'è i bambini dell'asilo il sabato c'è la radio it Italia quella che è la domenica l'orchestra la terza idea più nei tre mezzi ci sono i ragazzi del balletto altre cose truccabambini queste cose qua più dopo ci sarà all'ingresso il tunnel del baseball che i ragazzi possono provare a lanciare più c'è uno stand per i bambini stessi per fare i braccialetti queste cose qui quindi è una festa familiare anche per i giovani perché il venerdì con i bambini dell'asilo sappiamo che radunano molti giovani ed ora parliamo di un'altra manifestazione di estrema longevità come il festival Gallo d'Oro questo weekend si è chiusa la 52esima edizione della Rassegna Canora che sarà riproposta integralmente anche in due prime serate su Rossini TV 52 anni e non sentirli dal 1966 è il festival Canoro più longevo del territorio lo scorso weekend Gallo di Pedriano è stato infatti il tradizionale palcoscenico del Gallo d'Oro Rassegna seguita anche dalle telecamere di Rossini TV che vi riproporrà sul nostro canale 80 l'integrale serata del festival domenica 4 agosto alle 21.20 preceduta sabato 3 agosto dalla serata del Galletto d'Oro sempre alle 21.20 siamo stati molto soddisfatti per le due serate cantanti quella del Galletto d'Oro e quella della cover dell'esibizione dei cantanti grandi ed è stata molto bella anche la serata dedicata allo show del format anni 90 i cantanti sono stati eccezionali con una bella performance vincitrice Stella Baioni del festival procediamo questa settimana con l'ultimo evento in programma che è quello di questa sera della proiezione del film di Giorgia Righi ancora volano le farfalle il film è girato in paese con tutti i personaggi locali anche che hanno fatto le comparse i luoghi dove Giorgia ha vissuto e vive tuttora quindi tutto riporta alla sua vita Restando nel territorio di Petriano grande successo di partecipazione ieri sera la seconda edizione di Musica e Parole a Ricceci evento organizzato dall'associazione Diversamente una serata di musica dal vivo letture e cortometraggi nel segno dell'impegno a preservare la collina di Ricceci dal progetto di realizzazione di una discarica dal 3 all'11 agosto torna la Gavardiana storica manifestazione d'arte all'aperto nel centro storico di Pesaro presentata oggi in comune una rassegna giunta la 35esima edizione che metterà in mostra 75 artisti fra pittori scultori fotografi ceramisti che sporranno le proprie opere fra le vie Gavardini la corte di palazzo Mazzolari Mosca Galleria Rossini e lo spazio Sora comincerà invece il 29 settembre dalla trasferta di Nardò il campionato di serie A2 2024-2025 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro oggi la Lega Nazionale Palacanestro ha ufficializzato la prima giornata di campionato mentre domani diramerà il resto del calendario del campionato e continuiamo a parlare di sport perché oggi nel comune di Pesaro è stato consegnato il plauso della città a due atleti paralimpici di Pentatron capace di conquistare importanti medaglie ai campionati europei appena conclusi Il comune di Pesaro ha consegnato questa mattina la benemerenza di plauso della città per meriti sportivi agli atleti paralimpici Anna Maria Mencoboni e Alessandro Ragni delle società pesaresi future Filosport il sindaco Biancani e l'assessora Mila Della Dora hanno premiato i due paratleti che hanno scritto una pagina importante della storia del pentatron moderno italiano partecipando ai primi campionati europei para laser run e triatel svolti a Madera in questo mese di luglio una kermess portoghese che ha premiato le performance di Ragni con due ori e quella di Mencoboni con un argento ottenuti grazie al contributo degli atleti guida Nicola Sozzi Alex Torcasio e Michele Totaro alla consegna delle benemerenze in comune anche il presidente della federazione di pentatron moderno Fabrizio Bittner che a sua volta ha applaudito la realtà pesarese in cui è nato il movimento del parapentatron Una prima sperimentazione durante i campionati italiani giovanili e quest'anno è stato fatto un passaggio a livello internazionale i due atleti però sono della città di Pesaro quindi insomma praticamente è una primogenia della città di Pesaro sicuramente perché la federazione non aveva un settore rivolto e diversamente abili adesso ce l'ha è convenzionata come il comitato italiano parolimpico per avere un riconoscimento ufficiale della disciplina perché diventi parolimpica vera e propria bisogna attendere a livello internazionale che la stessa sia riconosciuta dal comitato italiano parolimpico quindi che diventi disciplina parolimpica come lo è oggi olimpica e poi si può pensare a un'organizzazione di movimento su scala nazionale però insomma stiamo già partendo in Italia in realtà a fare diversi poli per stimolare la partecipazione e l'adesione a questa attività che per ora è di laser run ovvero corri e spara e in futuro si potrebbe aprire le discipline almeno del nuoto sicuramente e della scherma che esistono già nelle paralimpiadi e allora davvero complimenti a questi atleti noi siamo arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che poi la replica di questa edizione si terrà alle 20 e 30 intanto vi ricordiamo che subito dopo tra pochissimi minuti intorno alle 20 ci sarà il nostro spazio che vi informa sugli appuntamenti della natura della cultura di Pesaro 20 e 24 e poi andiamo avanti perché come tutti i mercoledì continua il nostro programma amministrando dove andiamo a conoscere i nuovi sindaci e allora questa sera conosciamo invece un sindaco rieletto il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi alle 21 e 20 e poi subito dopo andiamo a vedere quello che è stato il successo di Castello Magico a Tavuglia quindi vi aspettiamo alle 21 e 40 e domani invece io vi aspetto in diretta alle 7 e 20 con la nostra famosissima conosciutissima e soprattutto seguitissima Rassegna Stampa vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni io vi auguro buona serata